ecco qua che qui ho portato anche gli album da mettere sul tavolo delle mie foto con i vip comunque per quelli che vengono a casa vogliono sfogliare l'album con le fotografie che ho fatto possono farlo e vederlo sono due album perché gli altri non l'ho fatti stampare le altre foto che ho fatto non le ho fatti stampare però intanto questi due album li possono benissimo vedere qui c'è la fotografia che ho fatto con cian paolo morelli rispettore coleandro qui c'è quella con christian desica poi vabbè ci sono molte fotografie con fiorella mannoglia e robbi facchinetti poi ho portato i vari poster da appendere per cambiare anche alla bacheca cinematografica che ho qui adesso c'è quello di tanic però ogni tanto lo cambio poi ho portato anche le luci led che vi ricevo che questi li mettiamo in un altro video da mettere sotto alle sedie da far luci da far luce e sono tre confezioni qui c'è la sinossi del film buongiorno papà autografato da eduardo leo in persona come potete vedere nuova chicca da esporre in questa sala cinematografica ho portato un chuck da mettere e in più ho portato anche il mio gioco la mia mod per dragon ball z budu kai 3 che feci quando ero più piccolo che è dragon ball budu kai a f mrc questo se volete scaricarlo e metterlo su un dvd mi mandate un link mi mandatemi un messaggio e io vi dirò tutte le informazioni per scaricarla e poi ho portato l'unico gioco che aveva anche a casa per la playstation 2 ed è this is football 2003 platinum e niente ragazzi mettete un piaccio commentare iscrivete al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli